Allora, fermate un attimo, perché ho due domande per il professor Lefoche. Uno riguarda il tracciamento. Adesso noi arriveremo anche a Roma, vedremo quelle file incredibili, lunghissime, di macchine per farsi i tamponi, che è diventata la nuova nevrosi, diciamo, farsi il tampone. Lei che sensazioni ha, professore? Siamo ancora al tempo con i tamponi, ha tenuto controllo la situazione? O siamo un po' oltre, secondo lei? Con i tamponi forse siamo un po' oltre. Cioè, nel senso che comunque queste file enormi, eccetera, non ci dovrebbero più essere. È giusto aver aperto anche con i tamponi antigenici, con i test antigenici, che servono a dare il quadro di uno screening generale e poi eventualmente fare anche il tampone. Cioè, quindi la prassi di fare il tampone rapido per capire se sono positivo o negativo e se sono positivo, passare al tampone molecolare, ha un senso. Ha un senso ed è molto, il senso è chiaro, anche perché hanno un'attendibilità anche abbastanza buona, quindi è giusto farlo. È giusto fare il tracciamento perché conviene farlo per avere... Io farei più mirato il tracciamento, cioè cercherei anche di individuare dei territori particolari, più fragili, eccetera. Ma comunque è sempre utile fare il tracciamento, è sempre utile avere il territorio sotto controllo. La cosa importante è che siamo andati un po' oltre, quindi queste file chilometriche, eccetera, non ci dovrebbero più essere. Quindi fare prima una medicina preventiva del territorio è fondamentale per avere... Ecco, perché forse il vero tema è che questa cosa che ci possiamo riempire la bocca per mese, la medicina del territorio, secondo me su quello siamo ben in ritardo. Il territorio è stato purtroppo distrutto in 20-25 anni, insomma è stato ridotto ai minimi termini verso gli ospedali, eccetera. Però adesso abbiamo interpretato che probabilmente è fondamentale il drenaggio della medicina del territorio che serve ad attenzionare il paziente fragile a domicilio, avere i rapporti tra le AS, il medico di base, i rapporti tra ospedale di primo livello, ospedale di secondo livello, che è fondamentale.